Vediamo oggi un importante segno che si può trovare nella mano, ad esempio il quadrato. Il quadrato, che potrebbe essere appunto una forma di questo tipo, ha un importante significato come segno positivo perché indica protezione da difficoltà, soprattutto se appare laddove c'è un'interruzione di una linea, quindi rappresenta una sorta, come in questo caso, quindi rappresenta una sorta di riparazione. Dato che i segni e le linee mutano, possiamo individuare una linea spezzata e poi col tempo vedere che si forma un quadrato a scopo protettivo, quindi che la situazione va migliorando. Non solo, ma i quadrati simboleggiano anche un aiuto esterno, quindi se sono presenti vuol dire che riceviamo, riceveremo o cerchiamo di ricevere un aiuto esterno per risolvere quel determinato problema di salute o problema emotivo. Cosa rappresenta però questa protezione? Anche il momento in cui ci si ferma a riflettere, cioè di fronte alle difficoltà, di fronte all'impedimento, ci si riflette e quindi si rallenta la propria attività proprio per cercare di risolvere. In questo caso la linea della testa spezzata, che rappresenta un forte stress, se si forma il quadrato o se è presente un quadrato, indica che bisognerà fermarsi a riflettere, quindi rallentare o chiedere un aiuto esterno per migliorare e risolvere la situazione. Osservate e valutate.